La Camera dei Deputati ha respinto la richiesta di arresto per l'onorevole del PDL e consigliere del Ministro Giulio Tremonti, Marco Milanese. Con 312 no e 306 sì, Montecitorio infatti ha rigettato l'istanza con cui la magistratura ha chiesto l'esercizio della custodia cautelare per il parlamentare PDLino. L'esito del voto dice innanzitutto che tra le fila della maggioranza ci sono stati 7 franchi tiratori. L'opposizione infatti poteva contare su 299 presenti. In aula si è notata l'assenza del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Siamo stati leali, ha dichiarato il Ministro delle Riforme Umberto Bossi. Ve l'avevo detto che la Lega non avrebbe fatto cadere il governo. Il Ministro del Carroccio ha anche ribadito che nel lungo vertice di ieri pomeriggio a Palazzo Grazioli, Berlusconi non avrebbe affatto accennato all'ipotesi di volersi dimettere, né ha aggiunto si è parlato di un possibile voto anticipato l'anno prossimo, anche se il leader della Lega non ha garantito che l'esecutivo arriverà alla sua naturale scadenza. Lo vedremo giorno per giorno, ha dichiarato. Subito dopo il voto in aula, vertici di maggioranza Palazzo Grazioli. Lega e PDL hanno così deciso di rilanciare il piano di sviluppo per la crescita economica, reclamata a gran voce in questi mesi da Confindustria, una nuova legge elettorale ed una sulle intercettazioni. Dobbiamo andare avanti con le riforme, abbiamo la responsabilità di portare il Paese al riparo dalla crisi internazionale, ha dichiarato Silvio Berlusconi al termine del summit di maggioranza, proprio a ridosso della chiusura dei mercati che hanno fatto segnare l'ennesimo tonfo in tutta Europa, con il listino di Milano che ha chiuso con un meno 4,5%. Il Presidente del Consiglio è comunque intenzionato ad andare avanti con il mandato conferitogli dagli elettori. Io sono al lavoro e do una maggioranza ed intendo parlare con gli italiani, ha ribadito in un articolo sul Corriere della Sera di oggi. Dialogo però più complicato con i giudici. Il contenzioso con la magistratura si fa sempre più pingue. Il Presidente del Consiglio è stato infatti rinviato a giudizio per la quinta volta dalla Procura di Milano, l'ultima imputazione per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione alla famosa telefonata tra Piero Fassino e Giovanni Consorte sulla scalata Unipol su BNL.